ho dormito ragazzi perché poi non mi ha chiuso il video mi sono messo a dormire per un pochissimo tempo e mi sono... Gary, basta! no, dove ci stanno? mamma, dai un bicchiere l'azio? si vai, io posso piegare io ne ho botte di colpi, tutti ne ho dove stai? quali distribuidori? questo? no, non c'erreste ancora l'altro quello lì al mare, al garage oh, vai, io ok, ma tu sei spiegato! un messaggio arrivò e non c'è neanche la che parte tra stai qua con l'unicratis? si ecco Gary c'è che vai a fermo anch'io vieni qua è uno vediamo vediamo tue e io mi fai il campo 3 4 ma io che ho altri gol per il dato ma mi piace E tu non mi dici cosa ti fa, tu ti credi? No, io voglio giocare con me, ma, aspetta, tu sai cosa ti credi tu? Che la ti fa solo ballare, no, carissima, tu qua, ti farei delle cose meno, insieme. Vai, al mio trefega, uno, se tanto una cosa, io uso lo scarro viola e tu usi il bollone gennaio, va bene? Va bene? Oh, hai un polto, allora facciamo un fight bello bello, così facciamo, guarda, no, fermo, 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 allora, no, aspetta, aspetta, no, no, fermati, 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 fermati. Anche, ma, si, non, aspetta, come era, a tutto, uno, no, no, a tutto, allora, ecco, 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 ecco. fermati tu Erick al mio 3 io quantifico e poi vediamo 1,2,3 andiamo su chiudo 1,2,3 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 2,3 1,2,3